Si rinnova l'atteso appuntamento con Innovazioni, festival nazionale dell'innovazione promosso dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara con il patrocinio del Comune di Pescara giunto alla decima edizione. All'interno del festival il premio Campioni di Innovazioni punta a valorizzare i progetti relativi a prodotto, processo e organizzazione che aziende PMI, start-up e spin-off universitari hanno adottato negli ultimi due anni. C'è tempo sino al 9 ottobre per candidarsi al contest che culminerà nell'evento finale all'Aurum di Pescara i prossimi 10 e 11 novembre. Cristiano Fino, vicepresidente della sezione e referente del progetto. Dottor Fino, intanto ricordiamo chi può concorrere a questo premio. Possono concorrere tutte le PMI o start-up o spin-off universitari che abbiano ideato o progettato un'idea innovativa nei sei mesi antecedenti la data di iscrizione al concorso. Non c'è limite di localizzazione geografica, quindi si possono iscrivere le aziende di tutta Italia. Questo è il decimo anno consecutivo, è un format, possiamo dire, senza tema di essere smentiti di successo, grazie anche alla collaborazione fattiva con le aziende del territorio. Ma assolutamente sì, è un format che ormai è diventato strategico per Confindustria Chieti Pescara, su un stimolo e idea della sezione di servizi innovativi, ormai ha abbracciato anche tutte le altre sezioni. Voglio anche ricordare che noi abbiamo una collaborazione stretta anche con i giovani imprenditori che ci supportano in questo progetto fin dalla prima edizione. E dobbiamo ringraziare soprattutto il supporto, come diceva lei prima, delle aziende sia locali che del territorio nazionale. Possono essere ammesse fino a un massimo di 24 aziende fra PMI, start-up e spin-off, perché noi per motivi logistici, motivi anche di tempo, purtroppo non possiamo dedicare uno slot di tempo maggiore. Poi c'è anche da sottolineare il fatto che le imprese sono nel mezzo di una doppia transizione, no? Verde e digitale. Sì, devo segnalare che già dagli ultimi anni abbiamo notato una grande migrazione in progetti che riguardano il green, il digitale. C'è stata proprio una trasformazione, siamo passati più dal manifatturiero, che era il settore che prima trainava maggiormente il settore delle PMI, a quelli che sono invece adesso i trend in crescita per quello che riguarda la produzione industriale. Grazie.